Sinceramente non capisco la sostituzione di Gvaraschelia al secondo tempo, perché comunque essendo l'unico che corre, la prossima è anche squalificato, l'avrei fatto giocare. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Super Coppa Italiana ha assegnato all'Inter, tutto bene, l'Inter ha dominato la partita. Che cosa stanno recriminando i tifosi del Napoli? I tifosi del Napoli stanno recriminando su un'espulsione generosa a Simeone. Espulsione per seconda munizione, la prima munizione sciocca su una ripartenza dell'Inter, la seconda su un pestone. Hanno ragione, nel senso che poteva essere gestita diversamente. L'arbitro doveva capire che comunque è una partita importante, c'è tanta foca agonistica. Secondo me l'espulsione di Simeone è esagerata, perché comunque il primo fallo ci poteva stare, nel senso un fallo, ma non l'ammunizione, il secondo magari era più d'ammunizione, perché comunque fa un pestone, fa male e l'ammunizione ci sta. La ripartenza stava davanti l'area propria, quindi richiamare la ripartenza mi sembra un po' esagerato. Fatto sta che l'Inter ha meritato comunque la partita, ha dominato dall'inizio alla fine, non ha fatto la stessa partita che aveva fatto contro la Lazio, ovviamente, perché comunque la partita contro la Lazio è a sé, perché la Lazio non ha ancora la forza psico-fisica per ambire a certi traguardi, quindi invece il Napoli si è visto almeno la mentalità che aveva l'anno scorso, però a livello tattico non ci siamo, non ci siamo perché comunque non ricordo tiri importanti del Napoli, ricordo un tiro di Kvara Schelia parato da Sommer, sinceramente non capisco la sostituzione di Kvara Schelia al secondo tempo, perché comunque essendo l'unico che corre, la prossima è anche squalificato, l'avrei fatto giocare, poi magari mi sono perso qualche passaggio che si è fatto male, non mi sembra, però fatto sta che il Napoli è in difficoltà, lo sapevamo, magari la partita contro la Fiorentina sembrava che le cose andavano meglio, però la verità è che manca, manca tanto al Napoli Spalletti, Spalletti ha lasciato il segno, tornare a dire che Spalletti è stato fondamentale per questa squadra è troppo scontato, e quindi ragazzi io penso che comunque l'Inter ha meritato, non so voi cosa ne pensate, se ha rubato la partita all'Inter, comunque vi dico che secondo me adesso l'Inter, oltre ad avere anche i titolari forti, ha anche i panchinari forti, Arnatovic giocherebbe titolare quasi tutte le squadre, frattesi giocherebbe in tutte le squadre italiane titolare, e quindi vediamo anche questo, l'Inter è adesso in una condizione psicofisica eccezionale, perché ragazzi non è solo a livello fisico e tecnico, le grandi squadre, le squadre sono anche a livello psicologico, è quello che dico tante volte io, che la Lazio non mi piace, perché comunque psicologicamente la Lazio non è forte, perché comunque a volte parte già sconfitta, nemmeno ha iniziato la partita, e quindi quello che adesso l'Inter è, sia che è forte tecnicamente, nei ricambi e anche psicologicamente, sono davvero molto capaci, sanno bene dove possono arrivare, sanno bene che possono vincere tutte le partite, è una squadra veramente in forma, sono curioso di vederlo contro l'Atletico Madrid, che sarà una bella prova per loro, complimenti all'Inter, complimenti all'Inter, ma complimenti anche al Napoli, che ha lottato in 10 uomini, stava arrivando ai ricori, e secondo me lì ai ricori, il Napoli magari poteva sperare in qualcosa, però durante la partita si è visto il dominio dell'Inter ragazzi, quindi si è visto un dominio dell'Inter, è merita, e ha meritato la Supercoppa, ci saranno delle polemiche ovviamente, per le espulsioni, per certe decisioni dell'arbitro, ci sta, però a mio avviso l'unica cosa, l'unica cosa che non è poco, cioè non è meno importante delle altre, l'espulsione di Simeone, poteva essere evitato secondo me, però poteva essere bravo anche l'allenatore lì, perché vedendo Simeone che era ammonito, poteva fare un cambio anche prima, ok? Io ragazzi vi ringrazio, fatemi sapere voi sotto nei commenti, cosa ne pensate della partita di oggi, partita comunque non bellissima, perché non è stata una bella partita, quella tra Inter e Napoli, una si difendeva e l'altra attaccava, quindi partita, è stata una partita, una finale, è bene così, io vi ringrazio, e scrivetemi nei commenti, ciao a tutti!